Denunciamo la posizione assunta dai deputati del Movimento 5 Stelle nella commissione d'inchiesta sul sistema dell'accoglienza, in posizione che fa cadere la maschera rispetto a come intendono gestire il fenomeno migratorio. Secondo loro non è più sufficiente riservare la possibilità ai cittadini che provengono dall'Iraq, dalla Siria e dall'Eritrea di fare la richiesta per vedersi riconosciuto lo status di profugo, ma la questione deve essere allargata ad altri paesi, ad esempio al Senegal, al Gambia, alla Nigeria e al Mali. In sostanza per questa sorta di avanguardia del politicamente corretto le maglie non sono abbastanza larghe ed in più ed ancora chiedono che non si arrivi a forzare l'immigrato per farsi identificare, nonostante le richieste delle forze dell'ordine. Oggi le forze dell'ordine a gran voce chiedono che l'immigrato sia trattenuto all'interno dei centri di prima accoglienza fino a quando non è identificato. Al contrario, i pentastellati ritengono che invece l'immigrato, nonostante non rilasci la propria identità, possa circolare indisturbato sul territorio nazionale. Ed ancora e per ultimo, per velocizzare l'iter di analisi delle richieste dei migranti, oggi esistono tre gradi di giudizio. Le prefetture hanno chiesto più volte che venisse semplificata la procedura e di ridurre al massimo a due le istanze e i gradi di giudizio per velocizzare i tempi. Naturalmente loro sono assolutamente contrari anche a questa richiesta legittima delle prefetture. Quindi, contrari alle richieste delle forze dell'ordine, contrari alle richieste delle prefetture, favorevoli a un'invasione indiscriminata dal nostro territorio.